L'aggressione alle donne è un argomento molto delicato. Le donne sono sempre più indipendenti e quindi sempre più si trovano in situazioni difficili, da sole. Il Krav Maga insegna e prepara le donne a reagire, sia fisicamente sia psicologicamente e soprattutto nel tempo giusto. Non dimentichiamo comunque che la prevenzione è fondamentale.